Benvenuti in questo nuovo video, sono SimpoRiki ed oggi siamo qui con mio fratello Bella Ragazzi dopo un bordello di tempo siamo tornati su questo gioco magnifico e ci siamo comprati due play Quindi abbiamo una play mia e una play sua, però il canale si chiamerà lo stesso SimpoRiki quindi a posto Mi sono classificato Oro3 e Riki Oro4, dopo vi metto il nome qua sotto in tutti e due i profili Ci siamo classificati Oro3 e Riki Oro4 solo che sono sceso e quindi adesso siamo diventati argento tutte e due Comunque vi dico che io e Simo siamo una bella squadra Sì raga, se volete giocare con noi vi lascio il nome qua sotto dei nostri profili Ci mandate la richiesta e nella richiesta scrivete che siete i nostri fan e volete giocare con noi Che noi giochiamo con voi E perché che avere ferma? Qua non avete rinforzato Mamma mia che fortuna Ho messo dal massimo Dove? Qua Io vi trovo la non avevo visto Sì sì tranquillo 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 bella è un lampino un altro che c'è un lampino che mi piace un lampino no, mi ha preso, non l'ho visto fa niente, fa niente è tutto buio è uscito il sledge, mi sa è uscito il sledge ah, regà, non mi morite così, però restano 15 secondi occhio 10 secondi è via ultimo attaccante rimasto in vita restano 5 secondi no, ma ha fottuto la kill raga, ci vediamo al prossimo round eccoci qua, raga tanto Valkyrie non muore perché infatti non l'ho non l'ho beccata alla testa alla poppa ah, ma sono qua oh, sentite i telefoni sentite i telefoni che occhio però qua c'è Valkyrie che è quello stupido ah, regà, c'era un buffetto eh, ovviamente non l'ho sfigata con un'inizio vabbè si, mi ha messo un arco vabbè what? capri non me lo chiedi non me lo chiedi proprio qua c'hai cosa che la spacca vai 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 no, aiutami, aiutami eh, c'è Frost Frost è morta no, no, l'ho uccisa l'ho uccisa io vai 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 veloce 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 ecco, stanno qua da una nostra squadra ragazzi arriviamo a 20 like e nuovo episodio ragazzi mettiamo nel prossimo eccoci qua regà oh, ciao Bendy non Bendy stelvatto tanto là c'è Fuse occhio ragazzi ok raga avete visto che l'ho preso in testa la regà non muore Ricky poi nel video vedi se l'ho preso in testa cioè mi dici se l'ho preso in testa stiamo sul set dovrebbe essere morto in teoria però è tipo capitato siamo attenti che hanno nooo ecco aspetta prechi ho preso sopra cosa mi ho sparrato in testa cosa 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 vabbè raga ci vediamo nel prossimo round bentornati raga se perdiamo è l'ultimo round e abbiamo perso la partita scusatemi se questa partita qua non stiamo facendo tanto gli righi però siamo anche stanchi tada tada sono morto se cosa volava raga l'avete visto che cazzo a posto due trappoli mi ha messo le ho distrutto tutte e due bravo così sono pazzi ma sono pazzi seri dai raga guardiamo i righi che fa qualche altro kill raga due trappoli mi ha messo occhio occhio non credo che ci sia qualcuno righi eh no ci vuol dire no ci vuol dire è morta comunque ho paura ha paura comunque cambia tattica cambia tattica intanto qua si vogliono arrendere ma io voto di no quindi non ci arrendiamo bravo righi non muore non muore c'è 100 di vita righi vai a destra drona se devi dronare ok arriva 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 righi arriva Dovete entrare Mancano 30 secondi Drona Servi dronare qui Mancano 10 secondi 10 secondi Mancano 5 secondi Vabbè raga Questa qua è stata la partita È stata la bella partita Forse sono stati bravi Vabbè raga Noi vi salutiamo Mi raccomando iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Attivate la campanellina Condividete il video a 20 like Ci sarà questa promessa Intanto di che abbandona E niente bella Vabbè raga Vabbè raga Vabbè raga Vabbè raga